Gianni Alemanno ad Ocre per la chiusura della seconda edizione di Orizzonte di Valore. Il sindaco di Roma ha tenuto un'alexio magistralis sull'identità come valore ai ragazzi della scuola di formazione politica tenuta a battesimo dalla Fondazione Nuova Italia. Per la sinistra il valore principale è l'emancipazione, una idea astratta di libertà. Per la persona di destra invece l'identità è il filo guida per cui non si rimane bloccati, non si nega il futuro, ma il futuro si decide in base a quello che è avvenuto dietro di me. Cioè si ritiene che sia importante, che ci sia un motivo, un perché uno è nato in un certo posto, ha una certa storia, c'è un motivo profondo. Sindaco ha detto che bisogna essere orgogliosi ma non chiusi nella propria identità. Ecco, come è cambiato il modo di esprimere la propria identità? Beh, chiaramente la globalizzazione, i flussi migratori, la situazione internazionale ci spinge sempre a confrontarci in realtà molto diverse. Ma noi non dobbiamo perdere l'orgoglio delle radici della nostra identità. Dobbiamo sapere declinare in uno scenario più ampio e questa è la grande sfida del nostro tempo, riuscire a mantenere una forte identità senza chiudersi rispetto al confronto a tutte le altre parti del mondo. Ci avviciniamo ai 150 anni dell'unità d'Italia, identità significa anche identità nazionale. Perché secondo lei questo sentimento non è così forte al nord? Non è vero che non è forte al nord. C'è sfiducia nel centralismo, c'è confusione fra l'identità nazionale e quello che è uno Stato centrale che è spesso inefficiente. Noi dobbiamo, per rendere credibile l'Italia, dobbiamo rilanciare con grande forza il progetto nazionale, le riforme, la dimostrazione che quando si viene a Roma e si governa da Roma non è un governo che nega le riforme e riesce a farle. È stato dunque il concetto di identità al centro dell'intervento del sindaco Alemanno che però ha deciso di affrontare con i giovani di Orizzonte di Valori anche argomenti di più stretta attualità. Sentiamo cosa ha detto nella seconda parte dell'intervista. Oggi si è rivolto ad una platea di giovani, alcuni dei quali universitari. Usciamo da una settimana di manifestazioni e scontri. Cosa ne pensa della riforma Gelmini ma anche delle scene di violenza che hanno diffuso i telegiornali? La riforma Gelmini nel suo impianto è buona, può essere migliorata. Soprattutto non deve essere abbinata ai tagli. Bisogna dare chiaramente la sensazione che è una riforma che deve rilanciare l'università, non tagliarla o ridimensionarla, non ridimensionarla il ruolo della cultura. Quindi ci vogliono meno tagli e un maggiore sostegno a questa riforma per rendere credibile. E poi dentro le proteste c'è chi invece cerca di buttarla in violenza, cerca di creare uno scontro proprio per creare un mito rivoluzionario da inserire in questa protesta. E questo è molto pericoloso. Insomma io credo che nei confronti dei studenti bisogna parlare, bisogna confrontarsi, non bisogna avere atteggiamenti repressivi, ma bisogna essere molto digi rispetto a chi invece vuole propagandare le violenze. Soddisfatto della tre giorni di studio, il direttore del centro studi della Fondazione Nuova Italia, Salvatore Sant'Angelo. Sia i docenti che i ragazzi sono rimasti molto soddisfatti dello scambio, dei temi che sono stati messi sul tavolo e degli argomenti che sono stati toccati. Devo dire che il clou è stato raggiunto con l'intervento del sindaco Gianni Alemanno, che oltre ad essere un uomo del fare, un amministratore, si rivela sempre anche un uomo delle intuizioni politiche. Il lavoro che lui sta facendo sulla categoria dell'identità è sicuramente molto interessante sul fronte della filosofia politica, del pensiero politico.